Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Pena di morte Trattato di Lisbona. Sono stato in un certo senso costretto a intervenire per la terza volta sul Trattato di Lisbona perché nel web viaggia la notizia infondata che il Trattato di Lisbona che rende l'Europa unita possa anche prevedere la reintroduzione della pena di morte in maniera surrettizia, cioè con dei rinvii a delle norme già emanate in alcuni dei 27 stati dell'Europa unita le quali norme pregresse del passato prevedono che le forze dell'ordine possano uccidere in caso di necessità superiori per l'integrità della nazione, in caso di sommosse e via di seguito. No, è sbagliato, è sbagliato. Scusatemi, non mi piace fare terrorismo mediatico, non mi piace. Sì, sì, io l'ho letto, l'ho letto il testo del Trattato di Lisbona, però attenzione, tutti gli articoli fondamentali del Trattato di Lisbona sono contro la pena di morte, vietano la pena di morte ed impongono addirittura che venga tolta la pena di morte se eventualmente c'è in qualcuno di questi attuali 27 stati dell'Unione. Allora che cos'è questa faccenda della pena di morte che continua a viaggiare sul web? Sì, esistono norme, norme, norme precedenti al Trattato di Lisbona e richiamate nel Trattato di Lisbona, norme di alcuni stati dell'Unione in cui è previsto anche che le forze dell'ordine possano uccidere in caso di sommossa. Però chi ha un minimo di conoscenza delle questioni giuridiche sa bene che una norma successiva cancella una norma precedente relativa allo stesso caso. In questo caso parliamo della pena di morte. Le norme del Trattato di Lisbona sono successive sono successive a quelle norme richiamate che fanno riferimento a norme interne ai singoli stati. Il Trattato di Lisbona cancella la pena di morte ove sia prevista in qualcuno degli stati dell'Unione. Ripetutamente il Trattato di Lisbona dichiara che la pena di morte non è consentita in nessun caso. Quindi se ci fosse un conflitto giuridico prevale la norma successiva quella del Trattato di Lisbona del 2007. E questo per quello che riguarda l'interpretazione non esiste assolutamente non esiste assolutamente nel Trattato di Lisbona un consenso alla pena di morte. Essa viene viene chiaramente condannata in tanti articoli in cui si parla della sacralità della vita che la pena di morte è proibita e via di seguito. Quindi essendo una norma successiva successiva il Trattato di Lisbona essendo norma successiva cancella implicitamente le norme precedenti eventualmente contrastanti in questo caso contrastanti nei confronti del divieto della pena di morte. Inoltre diciamo inoltre siccome è esplicito nel Trattato di Lisbona il divieto di condanna alla pena di morte entra in ballo anche la gerarchia delle norme la gerarchia delle norme per esempio gerarchia delle norme in Italia la gerarchia delle norme consiste in questo che le norme più elevate più importanti sono quelle costituzionali sotto le norme costituzionali ci sono le norme parlamentari poi ci sono scendiamo ancora ci sono le norme ministeriali poi se scendiamo ancora ci sono le norme regionali scendiamo ancora ci sono le norme provinciali poi ci sono le norme comunali c'è la gerarchia quando c'è un conflitto di norme si guarda la norma superiore sino quando si arriva alla norma costituzionale e la norma costituzionale stabilisce se una legge è costituzionale appunto o incostituzionale abbiamo in Italia la corte costituzionale allora nessuna paura della pena di morte assolutamente è esplicitamente vietata dal trattato esplicitamente vietata poi alcune considerazioni alcune considerazioni sul processo stesso di unificazione viene contrastato il processo di unificazione perché si dice che si va verso gli interessi dell'oligarchia degli oligarchi come se gli oligarchi fossero nati in questi ultimi decenni fossero nati ora gli oligarchi gli oligarchi ci sono sempre stati poi si dice sempre da quando patriarcato è patriarcato c'è sempre stata l'oligarchia sempre 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 gli oligarchi per nascere non hanno avuto bisogno del trattato di Lisbona o dell'Europa Unita altra questione è quella del signoraggio anche sul web balla balla questo signoraggio balla in continuazione balla il signoraggio come se il signoraggio fosse una cosa di oggi magari anche imputabile all'Europa Unita ma no il signoraggio c'è sempre stato da quando è nata la moneta è stata coniata la moneta per la prima volta quando è nata la proprietà privata tutti coloro che hanno battuto moneta principi marchesi duchi re imperatori hanno sempre fatto del signoraggio agio agio hanno sempre falsificato un po' i metalli che compongono una moneta c'è sempre stato il signoraggio il signoraggio fa parte integrante della storia patriarcale così come l'oligarchia c'è sempre stata l'oligarchia cioè non si deve vedere l'Unione Europea come quello spettro che ti potenzia il signoraggio ti potenzia le oligarchie ma non è vero tutta la storia patriarcale è una storia di oligarchie e di signoraggio e cos'è il signoraggio se non una forma di furto è un furto e il furto c'è proprio perché esiste la proprietà privata guardate un po' i codici civili e penali questi due libroni enormi ma che cosa sono i codici civili e penali se non dei codici fatti appunto a tutela dalla proprietà privata che è stata instaurata dallo stesso dio patriarcale il dio ebraico non desiderare la roba ad altri è da lì che parte tutto e non desiderare la donna ad altri una volta instaurata la proprietà privata tutto il mondo circola attorno alla proprietà privata chi per difenderla e chi per appropriarsene quindi cari amici vediamo il processo di unificazione dell'Europa così come abbiamo visto il processo di unificazione dell'Italia quanti problemi ci sono stati per unificare l'Italia ma ci sono stati problemi certo noi non li conosciamo perché viviamo a Italia unificata già fatta però tra il 1800 il 1850 il 1860 ci fu un dibattito in Italia per stabilire se farlo o non farla via di seguito e poi si dice ma viene fatta l'Europa unita viene fatta senza consultare i popoli ma che per fare l'unità d'Italia sono stati forse consultati i popoli sono state fatte delle guerre di unificazione così quando sono state unificate la Germania la Francia la Spagna l'Inghilterra mica ci sono stati i referendum le nazioni che ho citato sono nate non certamente su base democratica sono nate così poi se vogliamo anche riferirci a come la si pensa in Italia abbiamo esponenti di rilievo di rilievo come il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ma come Romano Prodi come Massimo D'Alema e tanti altri di certo oligarchi non sono che sono favorevoli all'Europa unita allora guardiamo all'Europa unita così come 150 anni fa si guardava all'Italia unita un processo di unificazione diciamo così cosa facciamo guardiamo indietro torniamo ai campanili i campanili torniamo indietro facciamo l'Italia disunita e tutte le varie regioni ma andiamo andiamo una spinta razionale ci porta verso l'Europa unita grazie cari amici se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni